Liceo classico Ugo Fosco Labbano, scegli lo sport. Liceo classico Ugo Fosco Labbano, scegli lo sport. Liceo classico Ugo Fosco Labbano, scegli lo sport. Nel nostro liceo ogni anno si svolge la giornata dello sport che coinvolge centinaia di alunni, manifestazione conclusiva di tutte le attività sportive in cui si giocano le finali dei tornei e si premiano gli atleti vincitori. Siamo giunti alla trentatresima edizione. Siamo giunti alla trentatresima. Nel nostro liceo si pratica il calcio a 5, la pallapugno, il tai chi, il nuoto, le arti marziali, la rampicata sportiva, il quadro svedese, l'atletica leggera, il tiro con l'arco, il basket, la pallavolo e il tennis tavolo. Siamo giunti alla trentatresima. 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ciao.